Grazie per questo momento, perché per noi è un momento estremamente importante per i motivi che vi dirò a breve. Io sono Luciano Squillaci, sono il presidente della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche e qui insieme a me sono presenti le principali reti e comunità che operano nel mondo delle dipendenze patologiche in Italia. Abbiamo una serie di reti, tra cui Comunità Italia, federazione come Lombardia, Acutipa, Sercore, Acta Lazio e all'interno ci sono tutta una serie di altre realtà, la Papa Giovanni XXIII, San Patrignano, Comunità Incontro, le potrei citare diverse. Quindi rappresentiamo un po', come possiamo dire, il mondo delle comunità terapeutiche, il mondo dei servizi e della riabilitazione del cosiddetto privato accreditato, quelli che una volta erano tanto buoni e adesso siamo anche diventati un po' bravini, nel senso che negli anni con le evidenze scientifiche abbiamo cominciato a costruire dei percorsi che hanno anche un significato e un fondamento scientifico. Siamo qui per presentare un documento e preliminarmente io volevo ringraziare, ma non è un ringraziamento di forma, lei lo sa bene, è un ringraziamento di stima perché di fatto chi comunque solitamente spesso ci aiuta a portare fuori la nostra voce è l'onorevole Bellucci che peraltro è qui presente e che ringrazio per averci dato questa opportunità, perché sapete che comunque non è così immediata e naturale. Ringrazio anche gli altri parlamentari che hanno voluto passare da qui e ringrazio il sottosegretario Costa che abbiamo incontrato qualche minuto fa e adesso ci rivediamo qui in conferenza. Questo per noi è un segnale importante di stima da un lato, ma soprattutto di attenzione, che è quella, e entriamo subito nel motivo per cui siamo qua, che francamente è mancata a Genova. Noi siamo qui per presentare un documento che abbiamo chiesto essere inserito agli atti della conferenza nazionale che c'è stata a Genova, che è un documento scritto perché purtroppo non c'è stata data la possibilità di presentarlo all'interno di un momento di confronto tra gli operatori dei servizi che noi invece abbiamo fortemente richiesto a più riprese prima della conferenza e non abbiamo avuto la possibilità di ottenerlo. La conferenza nazionale sulle dipendenze la aspettavamo da 12 anni, la sollecitavamo da 12 anni e molti di voi lo sanno molto bene perché ne abbiamo parlato con chi è qui oggi, con tutti. Vedo il senatore Gaspari, per esempio, con cui più volte ne abbiamo discusso. L'abbiamo richiesto per 12 anni. Abbiamo apprezzato il fatto che il ministro Dadone, con coraggio, ha voluto convocare finalmente questa conferenza dopo anni di attesa e però nonostante la partenza assolutamente positiva di questo momento, poi in realtà quello che è venuto fuori è stata una carenza che ha portato a quella che avevamo previsto e cioè un'occasione perduta. Un'occasione perduta che è ancora più grave perché era da 12 anni che l'aspettavamo. La conferenza serve, lo dice la legge, a fare sì che gli operatori del sistema dei servizi, il titolo della conferenza non era una conferenza sulle droghe, era conferenza sulle dipendenze. È importante capire questa differenza perché altrimenti non si comprende il senso di quello che stiamo dicendo. Quella conferenza doveva servire a consentire che gli operatori del sistema, purtroppo inascoltati per tanto tempo, potessero confrontarsi con i rappresentanti del governo, con i rappresentanti della politica, con il mondo civile per costruire insieme i presupposti di una modifica di una legge, la 309 del 90, che ormai ha più di 30 anni e che non risponde più alle esigenze di un fenomeno che invece è mutato in maniera enorme negli ultimi anni. Purtroppo il lavoro che è stato fatto, anche in termini preparatori, perché nei tavoli preparatori prima dell'Assemblea noi abbiamo lavorato alla cremente e alcuni elementi sono emersi, anche importanti. Ma purtroppo poi alla fine a Genova il risultato, e ma lo avete letto sui giornali, lo avete ascoltato alla radio, la questione che è emersa sono questioni che sono assolutamente irrilevanti, e sottolineo irrilevanti per noi. Cioè si è parlato della questione dei cosiddetti consumatori, si è parlato della legalizzazione della cannabis, che attenzione, la legalizzazione della cannabis o la liberalizzazione, peggio, è un cavallo di troia. In realtà è il pensiero che c'è dietro che è preoccupante, perché è un pensiero di normalizzazione dell'uso delle sostanze. Ma comunque sono tutti argomenti che non c'entravano nulla con il problema reale. Il problema reale è il sistema dei servizi, è un sistema dei servizi che boccheggia sul territorio, che sta faticando enormemente servizi del pubblico e del privato, e che ha necessità di ristrutturarsi, di ripensarsi, di riimmaginarsi, di ricostruire una dimensione nuova, una dimensione territoriale e integrata. E questo è il senso del documento che noi abbiamo voluto stilare e presentare, un documento che fa alcune proposte, ma soprattutto che tende a rimettere al centro la persona e la presa in carico globale della persona. Noi abbiamo bisogno di una modifica della 309, su questo abbiamo elaborato anche una proposta operativa, sappiamo che c'è un disegno di legge che è qui, che sta aspettando di essere anche discusso, e noi abbiamo bisogno che questa modifica di legge tenda a tenere presente che il protagonista del sistema di intervento deve essere la persona, non deve essere né il luogo di cura, né la sostanza. Contro la sostanza la battaglia l'abbiamo persa anni fa, è inutile inseguire le sostanze, ogni anno ne censiscono 100, 110 nuove, non ci interessa la questione della sostanza, ci interessa la persona. Allora in questo senso noi abbiamo bisogno di un sistema che sia realmente fondato su una presa in carico territoriale, uno degli strumenti su cui abbiamo ampiamente discusso, per esempio, è il budget di salute, è la presa in carico territoriale, ma attenzione, devono essere strumenti che devono vedere una pari dignità sul territorio, dove le realtà del privato sociale accreditato e dei servizi pubblici non devono essere ancillari rispetto a tutto il resto del mondo, ma devono essere centrali all'interno di un percorso terapeutico e riabilitativo. Così come, e l'altro passaggio, riteniamo che sia giunto davvero il momento di ragionare sulla presa in carico che vada da una diagnosi iniziale il più precoce possibile, perché noi abbiamo sempre più ragazzini, bambini, che cadono all'interno di sistemi pericolosissimi di dipendenza, fino al reinserimento lavorativo che deve essere parte integrante del percorso. E quindi è una presa in carico globale che tenga conto di tutto il cammino che devono fare le persone all'interno di un percorso riabilitativo. La stessa riduzione del danno, che a Genova è stata centrale, perché a Genova è stato artato, è stato arterato il tema della conferenza. La riduzione del danno, che è stata centrale nel sistema, nel modello, nel ragionamento di Genova, per noi non è l'anticristo, ma deve avere un senso. Cioè la riduzione del danno, fine a se stessa, che serve esclusivamente a garantire un ulteriore passaggio di normalizzazione, messaggio educativo pericolosissimo per i nostri ragazzi, e noi lo vediamo quotidianamente nei nostri centri di ascolto, e quindi una riduzione del danno, fine a se stessa, è, a nostro modo di vedere, delittuosa. Allora sì, noi siamo dispo, certo, la vita prima di tutto, noi dobbiamo difendere la vita delle persone prima di ogni cosa, ma lo dobbiamo fare avendo sempre presente che per noi un orizzonte di futuro, una promessa di futuro per chiunque ci deve essere, nella massima autonomia possibile. ci dicono che in questo senso siamo arretrati, noi siamo avanti, noi siamo avanti, i ragionamenti che noi facciamo le facciamo su base scientifica, sappiamo i passi avanti che sono stati fatti dalle neuroscienze negli ultimi anni, di neuroscienza a Genova non si è parlato. Scusate se ogni tanto, ma per noi è stato veramente, come posso dire, un momento faticoso a Genova, e quindi avere questa opportunità per noi è fondamentale. Chiudo, perché poi voglio lasciare spazio a brevissimi interventi dei nostri compagni di strada, chiudo soltanto su un passaggio, ma che credo sia importante. Quello che non c'è stato a Genova, noi vogliamo che ci sia. Ne abbiamo discusso con alcuni di voi in questi giorni, abbiamo riparlato stamattina anche con il sottosegretario Costa. Noi vogliamo un momento di confronto, un momento di confronto degli operatori, con gli operatori, sul sistema dei servizi, sulle cose che ci interessano a noi, non su tutto il resto. Vogliamo che ci sia questo momento, vogliamo che ci sia con tutti coloro i quali sono interessati a farlo, vogliamo che ci sia con la collaborazione del Ministero della Salute, e quindi con la collaborazione di chi effettivamente si occupa della salute di queste persone, e si occupa dei servizi e del sistema dei servizi. In questo senso abbiamo ricevuto una disponibilità a ragionare il sottosegretario, ma anche di molti di voi, per cui lo lanciamo, noi costruiremo questo momento, che è un momento di confronto, non è una controconferenza, una conferenza, non ce ne frega niente di contro, noi non siamo contro nessuno. Però, visto che non siamo riusciti a farlo fino ad oggi, abbiamo bisogno di questo momento, e quindi lo vogliamo fare, così come già il sottosegretario ci ha proposto, e noi abbiamo accolto con piacere la possibilità di costruire già da subito un tavolo permanente, ma poi lo dirà lui. Questo è il motivo per cui siamo qui oggi, vi ringrazio ancora per questa opportunità, e passo immediatamente la parola, chiedendo di stare veramente nei due minuti a tutti quanti, a Franz Vismara, San Patrignano, che qui con me è anche grande supporto a tutto il percorso. Grazie per lo spazio che ci date. Chiaramente, Luciano in sostanza ha già detto tutto, però, come dire, veramente quello che è successo è grave, è veramente grave, soprattutto anche perché, come dire, noi tutti abbiamo avuto comunque modo, alcuni di noi, di entrare, diciamo, nei gruppi di esperti, no? Che hanno un po' messo a punto i documenti base per la conferenza, no? Ed effettivamente esserci visti e trovati a Genova, in cui praticamente i nostri temi sono stati presi in mano da altre persone, in tavole rotonde che sono state create proprio sui nostri temi, no? Ma in realtà, come dire, al di là della presentazione del documento che ogni coordinatore dei gruppi ha fatto, poi il dibattito è scivolato in mano a persone che veramente parlavano d'altro. Sembrava di essere a una conferenza che non era quella per la quale abbiamo fatto tutto il lavoro, no? E questo, evidentemente, per noi, adesso non voglio dire che è stato un affronto, voglio dire che è stata una delusione, una delusione soprattutto dal momento in cui erano veramente anni e anni che si era in attesa di questo. Io voglio ricordare che al di là del 309 del 90, ma l'ultima, diciamo così, vera riforma che ha dato un po' di ossigeno, che ha rimesso un attimino le carte a posto, risale al 99. E la Lumia, una legge, mi sembra che sia la 45 del 99, che, peraltro, voglio dire, noi siamo le comunità, noi siamo il privato, ma non ci dimentichiamo del pubblico, perché noi siamo assolutamente, e vogliamo esserlo sempre di più, integrati nel sistema pubblico. E la legge Lumia è stata proprio questo, è stata una boccata di ossigeno, in particolare per il sistema pubblico, perché il sistema pubblico non aveva il personale per andare avanti ad affrontare il problema. È stata fatta una sanatoria, sono stati messi dei finanziamenti, peraltro una legge del 99 mette dei finanziamenti, e poi il governo, che in sostanza in quel momento c'era, nel 2001, prima di lasciare, fa una riforma, per la quale addirittura elimina il fondo lotta alla droga, e lo fa confluire nel fondo unico indistinto. Hanno tenuto una legge in Parlamento per tre anni, per poi dopo un anno e mezzo da quando è entrata in vigore, praticamente distruggerne il 70-80%, e non si capisce veramente quale sia il modo di ragionare per arrivare a livelli di questo tipo, non si capisce. Noi ci troviamo con una legge, attualmente, che sicuramente sotto tanti aspetti è anche una buona legge, poi con alcuni ritocchi che sono stati fatti nel tempo, ma è una legge che è stata distrutta. Vogliamo per esempio parlare dell'articolo 105, che è l'articolo che tratta i temi della scuola. Allora, ve lo spiego proprio in un attimo, mi prendo solo un attimo, per far capire quanto il problema delle dipendenze sia un qualcosa che sembra che non tocchi a nessuno. Nel 309-90 c'era la disposizione di docenti in comando presso le comunità, per portare avanti due tipi di discorsi. Uno, il recupero scolastico delle persone che a causa della dipendenza avevano abbandonato gli studi, e l'altro fare da tramite tra le comunità e le scuole nei discorsi di prevenzione nei confronti dei giovani. A un determinato punto questa legge è stata mantenuta, ma la disposizione dei comandi è confluita in un'altra legge. Improvvisamente nel 2014, nella legge di bilancio, viene abrogato l'articolo che assegnava i docenti ai comandi. Oggi siamo nel 2021, per cinque anni, ogni anno, abbiamo dovuto pregare deputati e senatori per prorogare la scadenza della disposizione. Finalmente, sembra adesso che al Senato venga introdotta definitivamente, ma io questo discorso l'ho citato, non per questo, l'ho citato per far capire quanto sembra veramente che non importi nulla a nessuno. C'è proprio una trasandatezza rispetto a questo discorso, che non si capisce da cosa deriva. Allora, noi a Genova, però, l'abbiamo visto da che cosa deriva. Deriva dal fatto che, quando si parla di dipendenza, si finisce sempre per parlare esattamente delle stesse cose. Si finisce sempre per parlare di legalizzazione. Ma lo vogliamo capire che è un tema che a noi non interessa, perché il problema è un altro, come Luciano ha detto, è la centralità delle persone, non sono le sostanze. Sulla gazzetta ufficiale, ogni giorno esce un DM dove c'è una nuova sostanza che viene introdotta nella tabella degli stupidi. Ma dico ogni giorno, ma se non è ogni giorno, è ogni tre giorni. Cioè, non ci interessa delle sostanze. Il problema è proprio la centralità della persona e la cura. Queste sono le cose che vanno portate avanti. Noi chiediamo assolutamente una riforma della 309-90 che sia concentrata su una riforma dei servizi, per dare il respiro, ossigeno, finanziamenti e finalmente introdurre un sistema di cura che soprattutto si occupi della precocità dell'intervento. Perché non possiamo lasciare i giovani che vengono affossati in un percorso di cronicizzazione, perché questo sta succedendo. Le persone vanno curate e vanno fermate subito, non vanno aspettati anni. Quello che sta succedendo è questo. Tutti parlano di precocità dell'intervento, ma io mi chiedo che cosa viene fatto in merito. Quindi è veramente ora di procedere a una riforma. Grazie, grazie Franz. Grazie. Io purtroppo vado a fare il censore, ma evidentemente gli argomenti sono tantissimi e la passione è tanta ancora di più. Gianpaolo Nicolasi, Comunità Incontro. Grazie Luciano, grazie ai parlamentari, al sottosegretario presente in sala, grazie a Maurizio, grazie all'onorevole Bellucci che ci seguite sempre e ci sostenete in questa nostra battaglia. Luciano ha fatto una sintesi e Franz ha toccato alcuni punti. A mio avviso ci siamo presentati a Genova dopo 12 anni, uniti, un gruppo forte, coeso, compatto. Tutte le comunità terapeutiche italiane eravamo presenti, tutti con lo stesso obiettivo, tutti con lo stesso proposito. Le società scientifiche e le varie federazioni, uniti, tutti presenti, non siamo stati presi in considerazione. Speriamo che questa conferenza, speriamo che il sostegno che la politica ci darà, come ci ha dato in questo particolare momento, possa portare qualche frutto. Io vorrei toccare tre punti velocemente, perché li ha già elencati Luciano. La prevenzione. Tutti parliamo di precocità, come ha detto Franz. Prevenzione a Genova, cosa è emerso? Legalizzazione. Che prevenzione dobbiamo fare se vogliamo legalizzare? Punto uno. Punto due. Stamattina, prima di venire qua, ho chiamato la segreteria, gli ho mandato un po' il manicomio, come faccio spesso io, gli ho detto voglio sapere, oggi, adesso, ore 7.30 stamattina, quante persone hanno concluso l'iter per poter entrare in comunità. E non possono entrare. 98 persone hanno concluso l'iter, tutte le analisi, carte, tutte le parti amministrative, non possono entrare. Per quale motivo? Primo, la mobilità regionale. La gente che viene da un'altra regione non può entrare in una struttura, purché accreditata e convenzionata, non può essere accolta. Perché? Allora, queste persone qua, queste 98 persone che non possono venire, noi cosa diciamo? È la comunità che non vi vuole, non riescono a capirlo, che possono curarsi di qualunque malattia in qualunque regione d'Italia, ma la tossicodipendenza non può essere curata fuori regione. Queste 98 persone sono ragazzi liberi, giovani, alcuni altri, terzo punto, persone che sono in carcere. La 309 del 90 lo prevede, che una persona con una pena inferiore a sei anni può scontare la pena presso una struttura di riabilitazione. Perché queste persone non possono venire? Volete sapere il perché? Perché una persona di Roma detenuta nel carcere di Terni, il carcere di Terni appartiene al CERT di Terni, non può pagare perché non ha i fondi per pagare. Quanto costa in più allo Stato mantenere una persona all'interno di una struttura penitenziaria e non mandarla presso una comunità terapeutica. Noi, la nostra struttura, pur piccola che sia, pur essendo una parte del mondo del recupero, ad oggi 98 persone stamattina non possono entrare prima di Natale perché questi due punti, il diritto alla salute e il discorso delle carceri, pur previsto dalla 309-90, non viene preso in considerazione. allora noi chiediamo questo, chiediamo che le comunità, punto forte, punto di riferimento per l'Italia nel recupero dei tossicodipendenti possa essere ascoltata. La nostra voce deve essere ascoltata. Grazie. Grazie, Gianpaolo. Io vi chiedo una piccola pausa negli interventi nostri perché diciamo, cogliamo l'opportunità di avere il sottosegretario Andrea Costa a cui chiederei di intervenire. Voi ha già avuto il nostro documento ovviamente è stato presentato precedentemente visto che è qui direi che insomma grazie ancora per la disponibilità. Un saluto a tutto, grazie a tutti, grazie a voi per l'invito. Ci tenevo a essere presente con voi per più ragioni, per più motivi. Il primo ovviamente è l'occasione per ringraziarvi per tutto quello che fate ogni giorno per i nostri ragazzi per la dignità e per le prospettive e per l'esperanza che ogni giorno cercate di dare ai nostri concittadini. La mia presenza vuole anche testimoniare una consapevolezza e la consapevolezza che oggi abbiamo bisogno di una politica che riparta dall'ascolto, una politica che si rimetta a disposizione. Allora quando parliamo di una tematica come questa non possiamo che partire dall'ascolto da chi ogni giorno tocca con mano quelle che sono le criticità, le difficoltà e chi può fornire un contributo prezioso alla politica perché credo che se non ricostruiamo questo rapporto sarà sempre più difficile trovare le risposte adeguate ai tanti problemi che ci sono e quindi ripeto per quanto mi riguarda è l'inizio di un percorso insieme che ci vedrà condividere scelte prospettive e guardate per quanto riguarda la conferenza di Genova io credo che aver declinato l'invito io non ho partecipato a quella conferenza e non ho partecipato perché avevo altri impegni non ho partecipato perché non ne ho condiviso l'impostazione ma per le motivazioni che avete esposto voi io credo che quando parliamo di certi temi dobbiamo fare molta attenzione a veicolare messaggi sbagliati e in quella conferenza mi avviso si è corso il rischio di veicolare messaggi sbagliati faccio un esempio su tutti faccio fatica a trovare un nesso tra una conferenza nazionale di quel tipo e introdurre dentro una conferenza il tema della cannabis terapeutica è fuorviante è strumentale ed è sbagliato sono due temi completamente diversi e guai a mescolarli perché il rischio grande è quello di veicolare un messaggio sbagliato che non ci aiuta ad affrontare a risolvere il problema questo è uno solo degli esempi l'ho detto con forza e colgo l'occasione per ribadirlo con forza questa mattina mi è stata assegnata la delega specifica sul recupero delle dipendenze quindi credo che per svolgere al meglio non posso che cogliere l'opportunità del vostro contributo e credo che dobbiamo trovare un modo anche operativo strutturale permanente per poter lavorare insieme ed è per questo che raccolgo l'invito e sarà mia cura procedere già nei prossimi giorni a istituire un tavolo permanente al ministero e sarà l'occasione per condividere tutte le esperienze tutte le testimonianze tutte le competenze perché credo che solamente in questo modo possiamo provare a traguardare dei percorsi e degli orizzonti che diano una prospettiva ovviamente raccolgo anche la disponibilità a organizzare un momento di confronto perché credo che solamente attraverso il confronto si possa prendere coscienza dell'entità del problema e anche si possa condividere insieme una prospettiva migliore quindi ripeto vi ringrazio ancora per l'invito di questa mattina la mia posizione mi auguro sia stata sufficientemente chiara e netta e quindi ho colto l'occasione per ribadirla ufficialmente questa mattina perché credo che ci sia un dovere morale oltre che politico di fronte a questi nostri ragazzi e a queste nostre ragazze poi c'è il tema anche della prevenzione e concludo e su questo vedo che la politica debba fare una profonda riflessione perché il percorso di recupero rinserimento sono azioni fondamentali indispensabili ma dobbiamo porci una domanda di come mai i nostri ragazzi oggi arrivano a fare uso di sostanze e questa credo che sia la vera sfida della politica forse dobbiamo un po' ripensare la nostra società dobbiamo tornare a parlare di valori di ideali e dobbiamo diffondere quel senso civico che ci può aiutare a prevenire certe situazioni tante sono le sfide sono convinto che grazie alla collaborazione alla condivisione al confronto al dialogo potremo trovare insieme soluzioni idonee grazie 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 davvero perché per noi queste sono veramente parole di speranza rispetto a quello che è il percorso in termini di prospettiva noi siamo troppo fermi in retrospettiva in questo momento io chiedo a Bartolomeo Barberis e la comunità Papa Giovanni XXIII grazie grazie Bartolomeo grazie a voi tutti per la presenza non ripeterò le alcune cose sono state dette in maniera mi sembra più che abbondante e chiara è evidente che Genova è un'occasione mancata per i motivi che sono stati detti io aggiungerei perché tutto il tema delle dipendenze patologiche che non vedono l'utilizzo di sostanze non è stato per nulla toccato e chiunque di noi è sul campo sa benissimo come lo sviluppo delle forme di dipendenza grave malata patologica anche senza uso di sostanze cioè le dipendenze comportamentali sta assumendo un'importanza più che rilevante e tutto fa pensare che nel futuro sarà ancora più significativo la dipendenza patologica è una malattia della relazione questo vale sia per chi si cerca risposta sbagliata a bisogni autentici dobbiamo ricordarcelo nessuno nessun ragazzo nessuna persona nessun adulto parliamo sempre di ragazzi ma sappiamo bene che la dipendenza patologica riguarda anche persone che hanno 50 60 70 anni nel gioco d'azzardo patologica nell'esagerare conformi che in sé sarebbero normali nessuna persona sviluppa una patologia da dipendenza per cattiveria lo fa perché non trova risposte autentiche ai bisogni più profondi che la persona ha che tutti noi abbiamo e allora le sostanze psicoattive i comportamenti parossistici maniacali che sono quelli tipici delle dipendenze senza sostanze sono un modo per dare una risposta che ovviamente è sbagliata noi da decine di anni stiamo camminando sulla strada di proporre risposte autentiche la vita comune la comunità vuol dire prima di tutto vita comune è questa esperienza di relazione nuova pulita positiva che è essenziale in molti casi per affrontare il tema della dipendenza patologica perché la dipendenza patologica è una malattia della relazione la ricchezza delle comunità terapeutiche italiane è unica in questo senso io rappresento la nostra comunità ma poi ci vediamo ogni tanto con altri a Vienna all'ufficio 1 di sì nel panorama mondiale unica dobbiamo preservare rafforzare questa ricchezza purtroppo a Genova questa ricchezza è stata ignorata per cattiva intenzione per non conoscenza ignoranza non conoscenza non lo so e non mi interessa più di tanto credo che la cosa importante sia ringraziamo il sottosegretario Costa ma tutti gli altri parlamentari presenti per l'impegno a lavorare insieme per sviluppare questa ricchezza ovvio che la comunità terapeutica che prevede un momento residenziale è una parte di un percorso molto più articolato e sappiamo benissimo come le nostre realtà nel corso di questi decenni hanno diversificato l'offerta che danno sono intervenute sul territorio hanno collaborato con i pubblici servizi quindi non sono più le comunità terapeutiche isolate che sono fuori dal no sono un pezzo di una cura molto più articolata ma questa è una ricchezza che va preservata e noi chiediamo con forza a tutti che ci sia un'attenzione e ci siano delle scelte concrete quindi il tavolo di confronto permanente ben venga ma poi ovviamente c'è tutto il tema anche della sostenibilità economica del riconoscimento del fatto che non siamo gli enti ausiliari così venivamo chiamati qualche decina di anni fa siamo il privato sociale che svolge una funzione pubblica questo deve essere riconosciuto e sostenuto in tutte le forme necessarie grazie 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 a meo veramente e colgo l'occasione mentre Maurizio Mirandola si avvicina al tavolo della federazione come colgo l'occasione per ricordare come il vero segnale che da parte dalle comunità terapeutiche che in realtà importanti no come la comunità Papa Giovanni XXIII San Padrignano la Cudipa le federazioni regionali Acta Come il comunità incontro comunità exus comunque sono insieme senza problemi cioè senza necessità di avere una prima donna tra virgolette all'interno questa è una novità rilevante ma è così da diversi anni ormai per questo prima giustamente Giampaolo diceva siamo arrivati un fronte unito a Genova e continueremo a stare insieme in questo senso perché è più importante di ciascuno di noi il bene del percorso sui territori Maurizio un minuto a questo punto devo ridurre veramente io avevo preparato un contributo mediamente lungo secondo i dettami della presidenza avevano detto 7-10 minuti io pertanto mi ero preparato per questo però visto e considerato che le cose si ripetono è vero che è ripetita Juven ma dopo stufano anche no e quindi mi limiterò a fare alcuni dei punti che è federazione come che è una federazione lombarda che si chiama com.e. sta per comunità educative quindi la dice lunga sul significato del nostro lavoro però il contributo è stato anche sottoscritto da ASAD che è l'associazione dei servizi involuatoriali delle dipendenze che sarebbero i CERT gestiti dalle comunità questa è una peculiarità lombarda e anche dall'istituto universitario progetto uomo che è aggregato all'università pontificia salesiana e che è gestita dalla FICT alcuni punti così tanto per ragionarci un attimo allora le comunità italiane lo diceva me o prima sono un'eccellenza ed un modello per tutto il mondo da tempo da tempo si sono adeguate da tempo stanno cambiando da tempo sono attente ai cambiamenti ai bisogni e alle necessità e agli stili di consumo di tanto in tanto sentiamo però qualcuno che viene a proporci dei programmi terapeutici brevi i programmi terapeutici brevi sono un bel comodo per chi li propone perché diventa un innovatore il prodromo ha un ulteriore fallimento per le famiglie e per i ragazzi e non ne hanno bisogno il cambiamento lo testimoniamo è possibile ma è lungo difficile e ha bisogno di tempi mediamente soddisfacenti io non vi so dire qual è la durata perché ognuno ha i suoi tempi e le sue maturazioni ma i tempi vanno rispettati ricordo che le comunità sono basate su sistemi relazionali ed educativi ma ricordiamoci relazionali ed educativi e non si può pensare di inquinarli con altri elementi l'aspetto sanitario è spesso presente abbiamo le doppie diagnosi abbiamo parecchie patologie in atto per cui ma non può interferire l'aspetto sanitario con le metodologie della comunità una proposta noi siamo sottoposti a continui controlli ma i controlli sono di carattere burocratico e procedurale vogliamo iniziare a verificare i programmi a verificare per cortesia l'efficienza e l'efficacia dei programmi andare nella sostanza del problema perché noi perdiamo un sacco di tempo noi perdiamo un sacco di tempo a compilare carte che non servono a nessuno ma noi non siamo noi siamo entrati in sanità ma siamo un elemento nuovo rispetto all'ospedale rispetto alla clinica e rispetto all'RSA siamo una comunità terapeutica queste sono tutte cose che aveva già aggiunto aveva già specificato Luciano che è anche il mio presidente quindi non posso andare oltre vorrei mi piacerebbe proporre di estendere a livello nazionale l'interessante proposta degli SMI i servizi multidisciplinari integrati in affinità ai CERT per velocizzare e migliorare l'accessibilità alle cure nell'ottica di una vera scelta e per una presa in carico precoce perché è da lì che deve essere precoce la presa in carico vorrei ricordare soltanto per chiusare la questione delle comunità una frase che non è mia purtroppo la frase è la comunità è un luogo magico in cui si fa psicoterapia anche in assenza dello psicoterapeuta la frase è di un medico è di uno psichiatra e non una a caso Vittorino Andreoli credo che non ci sia un'altra frase più chiara sul significato della comunità sulla legalizzazione due parole stiamo parlando di niente stiamo parlando di discussioni sulla proibizionismo sulla legalizzazione finché noi porremo al centro la sostanza o la dipendenza non lotteremo nessun risultato i risultati sotterranno quando e se si faranno politiche incentrate sulla persona una cosa sola però questa la devo dire non mi interessa il discorso legale o non legale io mi preoccupo dei messaggi educativi e mi chiedo se legalizzare sostanze di quel tipo sia educativo per i nostri giovani e se sia d'aiuto alle famiglie che hanno perso tanto potere educativo rispetto ai media che girano ma se gli togliamo anche questo le famiglie le uccidiamo e poi una preghiera una sommessa preghiera evitiamo le spettacolarizzazioni perché sono brutte evitiamole queste cose perché non non ne vale la pena dopo io ho scritto un articolo che ho scritto prevenzione ma in realtà è un discorso che con molto piacere ho sentito fare anche dal dal ministro Costa allora ricordiamo che la riduzione del danno quando era nata era nata come mezzo non come fine doveva essere un mezzo per accostare quei ragazzi che non si avvicinano spontaneamente ai servizi riteniamo che sia inutile continuare ad abbassare l'asticella dei nostri interventi puntiamo invece alle idealità cui le persone legittimamente ambiscono non continuiamo ad occuparci solo del malessere generiamo invece idee e azioni che possano generare benessere educhiamo i nostri giovani a coltivare la propria spiritualità intesa come ricerca del senso della vita partiamo dai valori fondamentali della vita e proponiamo esempi con non parole esempi concreti e positivi ad ogni ad ogni livello nessuno che deve ritenersi fuori dal problema nessuno torniamo a sentirci tutti quanti educatori di tutti perché i giovani ci guardano e ci imitano basta grazie 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 mille pino mammana a cutipa andiamo verso le conclusioni poi abbiamo luigi e isabella guidi petersoni e abbiamo intanto buongiorno sì sì ce l'ho fatta gli disguidi elettronici intanto grazie ai parlamentari che sono presenti Maria Teresa Bellucci e Maurizio Gasparri al sottosegretario Costa che ci ha onorato della sua presenza e speriamo che questo sia di buon auspicio per affrontare ciò che è nato a seguito della conferenza di giovani di Genova noi siamo stati sorpresi dall'andamento di questa conferenza perché l'avvio apparentemente coinvolgente nella definizione delle tematiche tecniche tecniche di fatto è stato stravolto nella gestione della conferenza stessa escludendo metà del mondo che si occupa delle dipendenze la gran parte del mondo che si occupa delle dipendenze dal punto di vista del recupero della cura e della riabilitazione cioè l'opera più preziosa che viene svolta in favore delle persone con problemi di dipendenza e quindi questo momento diventa fondamentale il momento dell'unità delle varie reti da sostenere d'ora in avanti per riprendere tutto quello che abbiamo anche prodotto nei tavoli di lavoro per quel che mi riguarda voglio sottolineare alcune brevissime cose la prima questione la paridignità e il libero accesso alle strutture riabilitative è un tema centrale la dipendenza riconosciuta come un problema di salute pubblica deve esserci la possibilità di accedere dovunque per chi ha problemi di questa natura come per tutte le patologie del campo sanitario rifiutando un modello esclusivamente territoriale perché guardate purtroppo le persone dipendenti o le persone che soffrono di uno stigma come quelle che soffrono di problemi di salute mentale spesso nel proprio territorio non trovano le possibilità di reintegro pieno a volte anche un cambio di località può dare questa possibilità quindi libero accesso la spesa si istituisca un organo terzo in ciascuna ASL non i servizi pubblici non le comunità che regoli la spesa redistribuendola e si risolve il problema il ripristino di un fondo nazionale di un fondo regionale di un fondo per le strutture queste sono voci fondamentali senza queste voci economiche il destino della riabilitazione è molto magro le dipendenze sono un'area di fragili e soccombono nella gestione del fondo sociale indistinto se non si definiscono le quote ad hoc destinate a questo settore il settore avrà sempre scarsa possibilità di svilupparsi terza questione le dipendenze chiudo le dipendenze sono un problema che ormai coinvolge milioni di persone se noi dentro questa categoria prevediamo tanto i consumatori delle cosiddette droghe leggete che poi leggete non sono i consumatori delle droghe tradizionali e anche le persone che dipendono da altri tipi di comportamenti patologici ormai l'area è vastissima allora se da questo punto di vista le comunità sono cresciute molto perché hanno oggi la capacità avrebbero la capacità di accogliere anche pazienti con queste caratteristiche e contemporaneamente hanno sviluppato anche un approccio scientifico non sono quel che si vuol presentare cioè delle strutture arcaiche legate semplicemente al contenimento di persone sofferenti se tutto questo è vero occorre sviluppare adeguatamente la formazione del personale che opera nelle strutture pubbliche e private noi chiediamo in modo specifico che venga istituita la disciplina delle dipendenze di clinica delle dipendenze perché questo è un passo centrale per avere il serbatoio per sviluppare il nostro lavoro di comunità e il lavoro anche dei servizi pubblici secondo gli insegnamenti sulle dipendenze devono essere inserite nelle aree dei corsi di laurea sanitario e socioeducativo e qui ci vogliono le indicazioni precise del CUN delle indicazioni che in qualche maniera arrivino dove devono arrivare terzo devono essere istituiti delle scuole di specializzazione perché senza personale specializzato i livelli più problematici della dipendenza non possono essere affrontati quattro chi l'ha detto che uno psichiatra parlo da psichiatra o uno psicoterapeuta è di per sé capace di affrontare il tema delle dipendenze credo che non basti credo che ci vogliano dei master dei master dedicati per coloro che pur stando nel campo della salute mentale desiderano operare in modo in modo specifico su questa materia ultimo noi abbiamo proposto anche il problema della formazione dei recovered users cioè di coloro che sono che abbiamo chiamato per anni ex che spesso sono cresciuti si sono formati lavorano nelle comunità e danno un grande contributo a questo e questa formazione esiste in tutti i paesi evoluti perché da noi l'università le strutture o gli stessi istituti tecnici superiori che si vanno a riformare non possono dedicarsi a questo ecco sono tutte novità questa ci è stata cassata completamente questa proposta ma noi la ripresenteremo in tutte le sedi grazie Pino scusate ma purtroppo abbiamo veramente qualche minuto Luigi Luigi e poi chiudiamo con Isabella che si prepara intanto con l'ansia che sei sì veramente pochissimo perché condivido assolutamente tutto quello che è stato detto fino adesso e ringrazio tutti per questo percorso unitario che stiamo facendo da qualche anno come comunità che è veramente una novità significativa e che non meritava questo essere ignorati che invece è accaduto a Genova penso che avremmo aspettato volentieri qualche altro anno dopo averne aspettati 12 piuttosto che vivere una conferenza vuota o se non per certi versi strumentale che è stato credo di non usare una parola troppo forte se dico che è stato umiliante la cosa bella di Genova invece è stata il messaggio del Presidente della Repubblica quando ho detto che bisogna andare alla radice del disagio dei giovani e ovviamente poi è successo tutto il contrario nel corso dei lavori andare alla radice del disagio per noi significa occuparsi seriamente di prevenzione purtroppo nel nostro paese non lo si fa più da almeno dieci anni perché non ci sono risorse penso che la politica che le istituzioni debbano ascoltare non solo gli operatori che è stato detto più volte ma bisogna cominciare ad ascoltare anche i ragazzi i ragazzi che incontriamo nei nostri progetti di prevenzione che hanno preso una strada piuttosto che un'altra grazie agli educatori della prevenzione i ragazzi che hanno avuto il coraggio di cambiare vita dentro alle nostre comunità e quindi possono spiegare che cosa significa legittimare dei percorsi di recupero con i ragazzi che hanno trovato un lavoro una casa una famiglia dopo i percorsi di reinserimento quindi questa roba qua va raccontata perché questo mondo oggi il mondo di oggi è profondamente diverso dal tempo in cui sono state scritte le leggi che noi oggi utilizziamo pensate che oggi nel nostro paese ci sono due milioni di NIT pensate alle percentuali impressionanti di dispersione scolastica pensate pensate al tema della salute mentale tra gli adolescenti oggi il sistema dei servizi deve essere completamente ripensato e deve essere ripensato insieme io la butto lì così è una specie di sogno ma magari un giorno avremo un governo che avrà il coraggio di convocare una conferenza nazionale sulle dipendenze all'interno di una comunità una grande una abbastanza grande ce l'abbiamo per ospitarci tutti ma è lì che si possono ascoltare gli operatori e i ragazzi che vivono questo fenomeno e che la sanno raccontare che sanno indicare una strada che è quella di questi tempi nuovi grazie grazie chiudiamo in bellezza saluti di Don Mazzi chiedo perdono ma vabbè ci perdonerà Don Antonio Isabella Guidi Pedersone associazione ACTA chiudiamo in bellezza e grazie a Dio con una voce femminile devo dire grazie allora premetto che noi siamo stati veramente contenti nel momento in cui ci è arrivata la notizia della convocazione e la richiesta di mandare il nostro parere sui temi da trattare eravamo siamo rimasti un po' sorpresi sui tempi perché insomma già quello forse premetteva qualcosa di particolare dei tempi ristrettissimi con l'estate di mezzo però abbiamo tutti lavorato lacrimente i temi sono stati poi gli stessi sono stati anche recepiti quindi contenti quando poi sono stati istituiti i tavoli e poi insomma è inutile ripetere quello che si è detto io vado giù un po' pesante ho trovato anch'io delittuoso ringrazio per l'uso di questa parola il modo in cui poi alla fine si è un po' ho fatto una conferenza così un po' fuffa un po' ideologica dove non sono state prese in considerazione come dire le fotografie di quello che sta succedendo non sono state prese in considerazione ascoltate non solo le comunità e i servizi ma anche le commissioni parlamentari non sono state prese in considerazione e questa è una cosa che io mi auguro che nel futuro verrà fatta le come dire le relazioni che sono già esistenti i dipartimenti di epidemiologia per esempio noi nel Lazio compiliamo in continuazione da una documentazione che è una fotografia di quello che sta succedendo non è stata presa in considerazione la relazione del CNR rispetto all'ESPA d'Italia rispetto a quello che sta succedendo ai ragazzi adesso cioè le fotografie dal basso ringrazio chi ha usato la parola ascolto ma ascolto è lettura della realtà non è che ci voglia molto quella è la cosa che a me umanamente un po' sconvolge perché se no ci riempiamo la bocca di parole e poi alla fine sono abbastanza siamo stati abbastanza sorpresi del fatto che sia stato fatto parlare a Genova un'associazione di persone che consumano sostanze rispetto a non far parlare chi invece cura da anni le dipendenze quello l'ho trovato veramente delittuoso quindi a mio avviso forse anche come mamma di un adolescente continuo a pensare che sia totalmente fuori misura tutto quello che sta succedendo quindi mi auguro veramente che si smetta di fare solo ideologia e si comincia a guardare dal basso ascoltare come ha detto il ministro Costa questo mi ha molto rassicurato spero che diventi una realtà quindi non è che siamo rimasti come dire offesi solo da quello che è successo un po' svalutati sì lo siamo stati un po' tanto ma siamo molto preoccupati su quello che potrebbe succedere nel nostro futuro e quindi io mi auguro a nome proprio dell'acta che ci sia una pari dignità veramente ma anche pari dignità per i consumatori per chi potrebbe diventare un dipendente per le famiglie per chi lavora nel campo quindi ci auguriamo che ci sia veramente un come dire un organo unico che si occupi sia dal dal punto di vista economico che dal punto di vista dei criteri dell'accreditamento che sia nazionale ma che non faccia come quello cioè che non faccia sì come succede adesso che ci sia una disparità fra le varie regioni d'Italia anche dal punto di vista delle rette insomma veramente siamo ai comuni all'Italia dei comuni quindi che veramente si parli di dipendenze di cura di salute però a 360 gradi e in maniera come dire non ideologica ma realistica ecco questo è il nostro punto di vista grazie grazie a tutti grazie a chi ci dà la possibilità almeno qui di parlare infatti questo è un è un passaggio direi fondamentale siamo stati anche bravi a stare nei tempi ma resa giusto ce l'abbiamo fatta sì io torno a ringraziare davvero i presenti l'onorevole Bellucci che ripeto comunque ci ha dato questa possibilità l'onorevole Maurizio Gasparri che comunque è sempre vicino a questi temi e sostiene le giuste la giusta battaglia come direbbe San Paolo e prego se io allora grazie Luciano Squillaci grazie a tutte le persone che sono intervenute grazie a voi per le parole che avete speso ma soprattutto per l'impegno che ogni giorno caratterizza la vostra esistenza era un dovere aprire le porte del Parlamento ai protagonisti della lotta alla droga le dipendenze patologiche l'abbiamo fatto con convinzione con determinazione ma anche con gioia perché era assurda quella esclusione l'abbiamo denunciata sin dall'inizio non si possono escludere le migliaia di operatori che dedicano la propria esistenza da decenni a dare un messaggio di speranza e di libertà dalle dipendenze patologiche e che difendono la vita saremo sempre in prima linea per potervi restituire la parola perché non è una concessione come ha detto il ministro Datone non è una concessione è un dovere della politica ascoltare e saper ascoltare e valorizzare quella eccellenza che voi rappresentate in Italia e in Europa da anni quindi grazie a voi anche questa volta di non esservi chiusi magari nella tristezza o anche a volte nella rabbia ma di aver aperto le vostre porte e di aver concesso ancora una volta di ascoltare le vostre esperienze e la vostra capacità che ogni giorno vi fa essere delle persone migliori grazie a voi grazie grazie a te ancora l'onorevole Maurizio Casparri io seguo da molto tempo queste tematiche ovviamente non c'è qui il tempo e l'occasione per dire tutto lo andrebbe detto sulla conferenza che è stata organizzata dal governo ho espresso i miei dubbi in corso d'opera e ho cercato anche di fare in modo che si potesse impostare diversamente ma diciamo che a livello di gestione non c'è stata grande recettività non c'era nemmeno la volontà di invitare i parlamentari alcuni di noi sono stati invitati in extremis per ascoltare di fatto abbiamo accolto l'invito mi ha meravigliato l'atteggiamento nei confronti di alcune comunità e realtà principali che già prima della conferenza avevano dato un contributo propositivo hanno fatto in quella sede delle proposte e mi pare che nella sostanza quasi nessuno dei presenti abbia avuto possibilità di parlare c'è molto da fare perché c'è stata una conferenza e un riflettore sulla droga ma non sui servizi e non sulle dipendenze voglio dire che poi si è spostato il dibattito in modo strumentale o come ha detto anche prima un esponente del governo sull'uso terapeutico che è un'altra questione che è un'altra questione oppure sul rettiziamente sul referendum sulle leggi sulle legalizzazioni c'è il tema del referendum che non possiamo ignorare perché farà discutere solo di certi aspetti e invece deve essere colta l'occasione per ricordare quello che manca e che avete detto anche oggi nella cura della persona nei servizi nella possibilità territoriale di una maggiore mobilità dei servizi del tema del carcere che viene usato strumentalmente per dire che il referendum stronca le cosche e sappiamo che non è vero perché le cosche guadagnano con ben altre sostanze e non con la cannabis mentre invece c'è l'inutilizzo delle leggi che consentono usiamo questo brutto termine di decarcerizzare tanta gente e come ricordavano prima alcuni amici che sono intervenuti è tutto così complicato quindi io credo che l'occasione del referendum e del dibattito debba essere colta per far irrompere non so come sarà possibile questo perché fa più scena sì no la questione emergente e non tutto quello che si fa tutto quello che non si fa è tutto quello che si potrebbe fare io da questo punto di vista sono come sempre a disposizione anche con iniziative oramai che online sulla rete si devono rinforzare indipendenti dai partiti ma che poi senza ipocrisia non possono non fare riferimento a quelle persone che sono sensibili sul tema perché anche su questo credo che poi anche voi vi state fatti un'idea di chi ha determinate posizioni e di chi invece le segue con serena quindi c'è molto da fare saranno mesi intensi perché il tema sarà al centro dell'attenzione ma sotto il profilo sbagliato per poter banalizzare il tema delle droghe si parlerà della cannabis invece non si parlerà di quello che si deve fare che invece noi dobbiamo riportare in luce perché la riforma della legge che avete detto serve ma partendo dai servizi dalle persone dalla possibilità di applicare le norme anti carcere che già ci sono e sulla possibilità di un'abilità nazionale più ampia quindi andiamo sul concreto non rinunciando a quello che posso dire è il nostro punto di vista di quelli che operano e di quelli che in qualche modo operano anche loro sul tema da tanto tempo grazie grazie davvero a questo punto direi che dobbiamo davvero chiudere ovviamente la prospettiva è quello che ci sarà domani abbiamo sentito il sottosegretario Costa abbiamo sentito i parlamentari il percorso ovviamente continua non si è mai interrotto precedentemente certamente non si interromperà ora anzi con ancora più forza andremo verso questo momento di confronto a cui chiameremo tutti quanti grazie grazie davvero grazie